Eccoci qua da Riccardo Gasperini senza glutine per proporvi una ricetta davvero gustosa con i ravioli di ricotta e spinaci per l'azienda Gusti Toscani Gluten Free Seguitemi tutti i procedimenti per questa ricetta veloce e veramente gustosa e faremo insieme i ravioli di ricotta e spinaci con ragù di scinta e zucca Grazie a tutti adesso sfumiamo con del vino bianco a cottura ultimata mettiamo la nostra zucca poi prendiamo i pomodori secchi Grazie a tutti Grazie a tutti Buon appetito dalla chef Federica Continanza e da Riccardo Gasperini senza glutine Grazie a tutti Grazie a tutti